Daniele su Twitter Forse Almiron Tutte situazioni in uscita Sono usciti in pratica anche Peruzzi e Monzon Che sono andati al Boca Quindi il Catania ancora farà qualcosa Davanti se uscisse Ciani Probabilmente sulle fasce Malgrado l'arrivo di Mazzotta E in difesa dipenderà dalle uscite Un altro paio di operazioni in entrata E qualche altra cosa in uscita Gile e Catania Gile è una soluzione che dipende Allora se tu puoi puntare su Terracciano E prendi Gile e Gile va a Catania per giocare Terracciano malgrado i tre gol presi A Lanciano lo considero un portiere importante Di prospettiva Quindi magari decido di puntare su Terracciano E di affrancargli un portiere esperto Che non per forza debba giocare Perfetto Monica direi che